Ciao, sono Jennifer. In questo video vi spiegherò gli esercizi di preparazione per eseguire padmasana, la posizione del loto. Il loto è associato a molte divinità, come Lakshmi, dia dell'abbondanza, e Ganesh, la battitore degli ostacoli. È una delle 11 posizioni importanti che hanno il potere di facilitare la meditazione e il pranayama. Apporta moltissimi benefici, sia fisici che energetici. Il modo in cui il corpo è posizionato va a premere contro alcuni punti di pressione dell'agopuntura, stomaco, cistifellea, milza, reni e fegato. Premendo in questi punti aiuta a creare equilibrio. Apporta anche numerosi benefici, aumentando la circolazione a livello lombare, nutre e tonifica gli organi addominali, rinforza caviglie e gambe, nonché la flessibilità delle anche. A livello energetico hai il potere di direzionare la consapevolezza verso la colonna vertebrale. In poche parole, hai il potere di risvegliare la Kundalini. Il loto ti porta alla connessione con la tua energia. Bene, ci portiamo con la schiena a terra, i piedi appoggiati a terra, aperti quanto le mie anche. Chiudo gli occhi, porto l'attenzione al mio respiro. Faccio dei bei respiri profondi, intensi. Con un bel inspiro porto le ginocchia al petto e le abbraccio. Dondolo un po' a destra e a sinistra, in modo da massaggiare i paravertebrali. Faccio anche dei cerchi, disegno anche dei cerchi con la schiena, in un senso e poi nell'altro verso. Lentamente. Il movimento è sempre accompagnato al respiro. Portiamo le mani sulle ginocchia, nella posizione di Apanasana. Con un bel inspiro, allontano le ginocchia dal petto e stendo le braccia. E con l'espiro le porto vicino al petto. Inspiro, allontano ed espiro, avvicino le ginocchia al petto. Inspiro, allontano ed espiro, avvicino. Rilasso spalle e collo. Inspiro, allontano ed espiro, avvicino. Inspiro, allontano ed espiro, avvicino. Bene. Ora, unendo gli alluci dei piedi, vado a fare delle rotazioni con le ginocchia, dall'interno all'esterno, disegnando dei cerchi. Prima in un verso, accompagnato sempre il movimento al respiro. Inspiro, ruoto, porto verso l'alto e con l'espiro riporto verso il petto. Respiri profondi. Risveglio bene le anche, devo sentire bene l'articolazione delle anche che si risveglia. Riespiri profondi ed espiro forte vicino al petto. E ora cambio senso di rotazione. Devo sempre accompagnare il movimento al respiro. Inspiro dal naso ed espiro sempre dal naso. delle belle rotazioni in modo da risvegliare bene le anche. Perfetto. Ora incrocio le caviglie e con uno slancio mi porto seduta a gambe incrociate. Aggiusto bene la mia posizione, rimango a gambe incrociate, porto le mani sulle ginocchia e faccio delle rotazioni con il busto. Prima in senso orario, inspiro vado in avanti e con l'espiro vado indietro. Vado indietro. Movimenti lenti. Inspiro vado in avanti e con l'espiro vado indietro. e ora ruoto nell'altro senso, nel senso anti-orario. Riespiri profondi sempre dal naso. Inspiro ed espiro dal naso. Bene. Mi riporto con la scheda eretta al centro, porto le mani a terra, cammino con le mani in avanti fino a che i gluti non si alzano da terra e mi porto nella posizione di quadrupedia. Ginocchia, sotto le anche, gambe aperte quanto il mio bacino, mani sotto le spalle. E faccio qualche respirazione del gatto. Inspiro, faccio una C con la schiena, porto fuori l'ombelico, guardo verso l'alto e con l'espiro faccio una gopa con la schiena, mento al petto. ed espiro, guardo verso l'alto e espiro, faccio una gopa con la schiena, facendo attenzione a non indietreggiare con il bacino. Inspiro, guardo verso l'alto ed espiro, mento al petto, faccio una gopa con la schiena. Inspiro, porto verso il basso le scapole ed espiro, mento al petto. L'ombelico rientra e inspiro ed espiro. E ritorno al centro. Punto i piedi a terra e con un bel espiro mi porto nel cane che guarda in basso. Aggiusto bene la mia posizione, piedi aperti quanto il mio bacino, mani ben appoggiate a terra, mento al petto, l'obelico rientra, spostiamo la respirazione al petto. E faccio una camminata sul posto, piego e stendo le ginocchia alternandole, accompagnando sempre il movimento con il mio respiro. Cerco di portare il più possibile il tallone a contatto con il tappetino, in modo da sciogliere bene le catene posteriori delle gambe. Piego e stendo lentamente. Spingo bene con le mani sul tappetino e mi riporto nella posizione del cane che guarda in basso. Con un bel inspiro alzo la gamba destra e la porto tra le mani nella posizione equestre. Ajo a sancho al asana. Stendo bene la gamba sinistra, il collo del piede della gamba sinistra è a terra. Guardo davanti a me, stendo bene la colonna verso l'alto. Ed ondolo un po' a destra e un po' a sinistra per sciogliere un pochino le anche. Bene, ora sposto verso l'esterno il piede destro, portando all'interno la mano destra. Faccio un bell'inspiro, guardo davanti a me, stendo bene la colonna e con l'espiro cerco di scendere con i gomiti a terra, appoggiando gli avambracci a terra. Se riesco, li appoggio direttamente a terra. Se no, posso utilizzare due cubi dove appoggiare gli avambracci o anche i due libri, possibilmente della stessa altezza. E lascio andare la testa verso il basso, in affondo. Mantengo sempre il mio respiro profondo. Cerco di rilassare completamente il corpo. Se sento qualche tensione, faccio un bell'inspiro e con l'espiro sciolgo la tensione e rilasso. E lentamente mi rialzo, portando le mani sul tappetino. Porto la mano sinistra un po' verso il centro e appoggio la mano destra sul ginocchio destro. Faccio un bell'inspiro guardando davanti a me e con l'espiro faccio una rotazione a destra, portando il ginocchio verso l'esterno, in modo da aprire bene l'anca. Inspiro, ritorno al centro e con l'espiro porto all'interno la gamba destra, spostandola di lato, nella posizione di Arda Kapotasana. Inspiro, stendo bene la colonna verso l'alto e con l'espiro mi porto in avanti con il busto fino a scendere completamente, nella posizione di Kapotasana 2. Rilasso completamente il corpo, faccio dei bei respiri profondi. Chiudo gli occhi e cerco di percepire bene l'allungamento. Inspiro ed espiro sempre dal naso. Lentamente inspirando, camminando con le mani, mi riporto in Arda Kapotasana. Inspiro, punto bene il piede a terra e con l'espiro mi porto nel cane che guarda in basso. Adesso, aggiusto sempre bene la mia posizione. Attivo i miei punti. Sciolgo ancora un pochino le gambe, piegando e stendendo, alternando le ginocchia. In modo da sciogliere ancora un pochino le catene posteriori. Lentamente. Bene. Ora con un bell'inspiro alzo la gamba sinistra verso l'alto e la porto tra le mani nella posizione di Ajwo Sanchalasana, posizione equestre. Anche qui aggiusto bene la mia posizione. Tallone deve stare sotto il ginocchio, in linea con il ginocchio. Ed ondolo anche qui un po' a destra, un po' a sinistra, sempre per aiutarmi a sciogliere un po' le anche. Lo sguardo è sempre davanti a me. Bene, ora sposto un po' il piede sinistro verso l'esterno, portando all'interno il braccio sinistro. Faccio un bell'inspiro, allungando bene la colonna verso l'alto e con l'espiro lentamente appoggio le abbracci a terra. e lascio andare la testa verso il basso, morbido, al collo e rilassato. Cerco di percepire bene l'allungamento. Se percepisco qualche tensione, faccio un bell'inspiro e con l'espiro lascio andare e rilasso. Creo spazio dove sento tensione. Porto l'attenzione al mio respiro profondo. Inspiro dal naso ed espiro sempre dal naso. Ora lentamente mi riporto con le mani a terra, rialzando il busto, appoggio la mano sinistra sul ginocchio sinistro, faccio un bell'inspiro guardando davanti a me, stendendo bene la colonna e con l'espiro faccio una torsione sinistra, cercando di portare verso l'esterno il ginocchio sinistro e guardo verso l'alto. Respiri profondi. Il piede appoggia, il piede sinistro appoggia sulla parte esterna. Il collo del piede destro è ben steso a terra. Ritorno al centro. Porto la gamba sinistra all'interno di lato e mi preparo in Ardha Kapotasana. Mani accanto al ginocchio sinistro, stendo bene la colonna verso l'alto con un bell'inspiro e con l'espiro scendo con il busto verso terra. Lasciando andare completamente la testa in Kapotasana 2. Respiri profondi, cerco di rilassare il più possibile il corpo. Così da incentivare bene l'allungamento. Posso anche chiudere gli occhi. Respiri profondi. Inspiro ed espiro sempre dal naso. Lentamente, camminando a ritroso con le mani, mi riporto in Ardha Kapotasana e lentamente appoggio le ginocchia a terra e ci portiamo nel bambino, la posizione del bambino, Balasana, con le braccia lungo il corpo. Rilasso, chiudo gli occhi, porto tutta la mia consapevolezza al respiro di pancia. Rilasso completamente il corpo e, inspirando, srotolando la colonna, mi riporto seduta sui talloni. Faccio un bel respiro, ruotando le spalle indietro. Bene. Ora ci portiamo seduti. Portiamo il piede sinistro a terra e portiamo il piede destro, lo appoggiamo all'altezza del linguine. Con un bel inspiro portiamo verso di noi il ginocchio e con l'espiro cerchiamo di portarlo il più possibile vicino a terra. Inspiro verso di noi ed espiro verso il tappetino. Inspiro, porto il ginocchio verso di me ed espiro. Cerco di portarlo il più vicino possibile al tappetino. Inspiro ed espiro. Ed espiro vicino a terra. Bene. Ora facciamo la stessa cosa con il piede sinistro. Appoggiamo davanti a noi il piede destro e appoggiamo il piede sinistro, zona inguine. E anche qui con l'inspiro porto il ginocchio il più vicino possibile verso di me e con l'espiro il più possibile al tappetino. In modo da anche qui da aprire bene le anche e da sciogliere bene le anche. Inspiro verso di me ed espiro verso il tappetino. Ci aiutiamo con la mano sinistra. Inspiro porto il ginocchio verso di me ed espiro il più vicino possibile al tappetino. Movimenti lenti. E sciogliamo la posizione. Bene. Ora afferro con la mano sinistra il piede destro e con la mano destra il ginocchio destro. e muovo con movimenti abbastanza energici il ginocchio avanti e indietro. In modo da risvegliare bene le anche. Schiena dritta. Faccio dei bei movimenti. E sciolgo. Ora facciamo la stessa cosa con il piede sinistro. Afferro il piede con la mano destra e afferro il ginocchio con la mano sinistra. E anche qui faccio dei movimenti abbastanza energici avanti e indietro lateralmente. In modo anche qui da sciogliere bene le anche. mantenendo sempre la schiena dritta. Movimenti belli energici. Perfetto. Appoggiamo a terra la gamba sinistra. Ora portiamo il piede destro e lo appoggiamo nella piega del braccio sinistro. e con il braccio destro ci abbracciamo bene la gamba. E cerchiamo di portare il più vicino possibile verso di noi il piede. Tutta la zona della tibia, dal ginocchio al piede, cerchiamo di portarla il più vicino possibile al petto. Mantenendo sempre la schiena dritta. Ok. E sciogliamo lentamente la posizione. Ora facciamo la stessa cosa con la gamba sinistra. Portiamo il piede sinistro nella piega del braccio destro e abbracciamo il ginocchio con il braccio sinistro. Faccio un bel inspiro e con l'espiro lo avvicino il più possibile al petto. Respiro profondi, schiena dritta. Cerchiamo di percepire bene le aperture delle anche. E con l'espiro sciogliamo lentamente la posizione. Ora posizioniamo la parte della tibia al confine del tappetino, così per avere un'idea, per averla dritta. E appoggiamo sopra la gamba sinistra. Il ginocchio deve stare all'altezza del piede sinistro e il piede destro deve stare all'altezza del ginocchio sinistro. Appoggio le mani a terra con i palmi verso l'alto, faccio un bel inspiro raddrizzando bene la colonna e con l'espiro mi piego in avanti, lasciando andare morbida la testa verso il basso. Ora lentamente porto le mani in avanti, stendendole bene. Cerco di rilassare il più possibile, anche qui se percepisco qualche tensione faccio un bel inspiro e con l'espiro rilasso. E lentamente, inspirando, cammino ritroso con le mani e riportandomi con il busto eretto. E sciolgo piano piano la posizione. Facciamo la stessa cosa. Porto a terra davanti a me la gamba destra e posiziono sopra la gamba sinistra, facendo in modo che il ginocchio sinistro sia sopra al piede destro e il piede destro sia sopra al ginocchio sinistro. Faccio un bel inspiro profondo e con l'espiro scendo in avanti. Le mani sono accanto con il palmo delle mani rivolti verso l'alto. Rilasso completamente il collo e la testa verso il basso. E lentamente porto le mani in avanti e le stendo completamente. Le stendo completamente le braccia. Faccio dei bei respiri profondi. Rilasso, faccio dei respiri profondi. E inspirando lentamente cammino ritroso con le mani portandomi con il busto eretto. E lentamente sciogliamo la posizione. Bene, ci portiamo a gambe incrociate e allunghiamo bene la gamba sinistra davanti a noi, lasciando all'interno la gamba destra. Ora afferriamo il piede e lo posizioniamo nella zona inguine e lo riposizioniamo a terra. Inspiro, portiamo il piede nella zona inguine e con l'espiro lo portiamo a terra. Inspiro, lo portiamo nella zona inguine ed espiro a terra. E poi stendiamo bene la gamba destra. Davanti a noi facciamo la stessa cosa con il piede sinistro. Portiamo all'interno. Inspiro, portiamo il piede in appoggio zona inguine ed espiro e lo riportiamo sul tappetino. Inspiro, appoggiamo il piede in appoggio zona inguine ed espiro a terra. Inspiro, lo riportiamo nella zona inguine ed espiro a terra. Perfetto, riportiamo le gambe incrociate e ora proviamo ad entrare nel loto. Potete utilizzare come gamba di appoggio quella che vi sentite più a vostro agio. Mi raccomando di posizionare bene i talloni nelle zone inguine, schiena dritta. Io vi saluto e vi ringrazio e alla prossima lezione.